Dottoressa, quali sono le attività che si stanno compiendo anche a livello internazionale per la salute dei cittadini? Allora, io mi occupo di biologia molecolare, studio dei sistemi biologici e della loro organizzazione. Tra questi ricordiamo che c'è anche l'uomo, ovviamente come sistema biologico visto in maniera integrata con gli altri sistemi. Allora, la salute e il benessere degli esseri viventi, uomo incluso, è un elemento che ormai è di interesse e di attenzione generale, soprattutto sapendo che l'ambiente sta cambiando anche per effetto dell'impatto antropico. Sta cambiando e sta cambiando in maniera dannosa per la salute dell'uomo, ma dannosa anche per la salute di tutti gli altri esseri viventi che popolano la terra. E questa cosa è ormai sotto gli occhi di tutti. E la conoscenza di questi sistemi, ripeto, io generalizzo, da quelli che sono i microbi, dagli organismi più piccoli, alle piante, agli animali che popolano le acque, che popolano la terra ferma, all'uomo, sono elementi tangibili che dobbiamo tenere presente e conoscere. Allora, in uno sforzo in cui ci si sta focalizzando sulla salute dell'uomo, prescindere da quella che è la salute degli altri sistemi viventi, sarebbe limitato portare avanti questa visione d'insieme, cioè curare il benessere dell'uomo tenendo presente quali sono tutti i fattori che impattano su questo benessere, quindi tutti i dati e tutti gli elementi che si devono considerare che vanno dal mondo biotico, cioè da tutto ciò che vive, al mondo biotico che interagisce con ciò che vive, determinandone la salute e il benessere. Una visione contestuale che richiede multidisciplinarità, competenze differenti, richiede l'attenzione alle problematiche che viggono nel mettere insieme i dati in maniera interoperabile, cioè in maniera che possano essere informativi per quanto riguarda azioni politiche, quindi decisioni politiche, ma per quanto riguarda anche la capacità di predire il destino di questi sistemi, e comunque la capacità di poter intervenire in maniera preventiva piuttosto che curativa, ma comunque conoscere come i sistemi, apprendere come i sistemi cambiano e rispondono alle variazioni per poter intervenire in maniera efficace, precoce e a minor costo. Tutto visto in una visione che si allarga rispetto alla visione del solo uomo, nonostante l'importanza che lui rivesta, ma in modo tale da poter avere uno sviluppo sostenibile di qualsiasi attività che abbia al centro il benessere umano.